75esima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, settima edizione del Green Drop Award, il premio che ormai da sette anni consegniamo al film più green fra quelli in concorso. Chi vincerà quest'anno? Ancora non lo sappiamo, ne abbiamo visti di molto belli, ci sono tante storie, dall'allunaggio fino ai samurai. È interessante trovare fra questi film quello che può ispirare anche il pubblico, grazie alle testimonianze degli attori, dei registi, degli artisti, tutti quanti. Quest'anno la nostra giuria con Paolo Conticini che la presiede sceglierà e il 7 settembre all'eccesso delle ore 15 svederemo chi ha vinto il nostro prestigioso premio, questa goccia di vetro di Murano con dentro la terra del vulcano Laki dall'Islanda.